La Puglia è veramente troppo cara. Albania che passione, ma anche la Grecia non scherza. Qualcuno parla di fuga o addirittura emorragia di turisti dall'Italia ed in particolar modo la Puglia per abbracciare la realtà dei due paesi balcanici. Miglior rapporto qualità-prezzo si afferma, pur non trattandosi sempre di destinazioni troppo economiche. Pesano, come suggeriscono le parole dell'intervistato, gli alti prezzi presenti nella nostra regione e la qualità dei servizi. I dati del traffico passeggeri per porti ed aeroporti sono comunque notevoli. Il porto di Bari segna il record delle partenze degli ultimi dieci anni, passate da 117 a 120 mila. In aeroporto da Palese si registra un più 58% verso l'Albania, più 11% per la Grecia, naturalmente, per quanto riguarda i voli. Saranda e le isole elleniche sembrano andare per la maggiore. Il tempo delle riflessioni certamente non mancherà. E' da vedere, si parla bene, ma è pulito e prezzi bassi, che non è più vero, però almeno questa era l'idea iniziale.